Decima lezione del corso della fisica facile. In questa lezione parleremo stavolta delle applicazioni dei moti circolari. Quindi parleremo di angoli radianti, così facciamo un attimo ripasso di iconometria e vediamo come si misurano gli angoli radianti. Poi, una volta fatto questa introduzione, parliamo di moto circolare uniforme, velocità angolare, moto periodico, moto armonico semplice, moto rotatorio e affine qualche esercitazione per mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Cominciamo. Intanto ricordiamoci, questa è la seconda parte di una lezione sulla legge oraria, rivediamo che cos'è la legge oraria, quando risolviamo un esercizio di cinematica dobbiamo identificare subito in quale regime di moto ci troviamo. In base al regime di moto dobbiamo utilizzare formule diverse che vengono definite leggi orarie. Abbiamo visto che nella lezione precedente abbiamo fatto le leggi orarie dei moti rettilinei, quindi abbiamo già visto il moto rettilineo uniforme costante e il moto rettilineo uniforme accelerato. In questa lezione parleremo del moto circolare semplice, del moto armonico semplice e del moto rotatorio, quindi vedremo i moti circolari in particolare. Prima di cominciare questa lezione faccio un piccolo ripasso di matematica. In particolare vediamo come si misurano gli angoli irradianti in gradi sessagesimali e in gradi decimali, perché questo ci servirà per poter poi capire l'unità di misura della velocità angolare e dell'accelerazione angolare. Cominciamo. Il radiante è l'angolo sotteso da un tratto di circonferenza pari al raggio. Che cosa significa? Prendiamo un cerchio e immaginiamo di prendere un tratto della circonferenza lungo quanto è il raggio. Non importa quanto è largo il cerchio, se ha un diametro di 10 mm o di 10.000 anni luce, non importa. L'importante è sapere che se prendo un tratto di circonferenza pari al raggio in qualsiasi cerchio, indipendentemente dalle sue dimensioni, avrò sempre un angolo di circa 57 gradi. Questo angolo lo chiamo radiante, ovvero l'angolo sotteso da un arco di circonferenza pari al raggio. Se la circonferenza è costituita da 360 gradi, ci vogliono due pi greco, e ora vedremo cosa vuol dire il pi greco, per fare una circonferenza completa. Che cos'è il pi greco? Lo vediamo subito. Se consideriamo il radiante, ovvero questo angolo di 57,32 gradi, allora possiamo calcolare quanti radianti ci sono in una circonferenza. In una semicirconferenza sono 180 fratto R, ci sono 3,14 radianti, quindi in 180 gradi semicirconferenza io ho 3,14 volte una distanza pari al raggio. Quindi chiamo questo numero pi greco. Poi per fare la circonferenza completa, che sono due volte 180 gradi, quindi 360, sono due volte pi greco. Questo è il motivo per cui la circonferenza di qualsiasi cerchio, indipendentemente da quanto è grande questo cerchio, se può essere piccolissimo o grandissimo, è sempre questa, 2 pi greco per R, cioè due volte più 3,14 per il raggio. Ora vediamo come si misura in radiante un angolo. Immaginiamo di avere un tratto indifferente di L, uno qualsiasi, e devo trovare in radianti l'angolo che sottiene questo arco, mentre questo arco non è più pari al raggio, può essere più grande o più piccolo. Vediamo che succede. Allora, ricordiamoci sempre la definizione, il radiante è l'angolo sotteso da un tratto di circonferenza pari al raggio, io posso dire che questo angolo in radianti equivale alla lunghezza dell'arco di circonferenza interessata fratto R, che in questo caso è il raggio. Vediamo un esempio. Io ho una lunghezza di 2 metri e un raggio di 2,50. Come faccio a trovare in radianti l'angolo sotteso? Basta fare la formula 2 fratto 2,50, ottengo 0,8 radianti. Quindi un angolo sotteso da un arco di circonferenza pari a 2 metri in un cerchio con raggio di 2,50 metri sarà equivalente ai radianti a 0,8. Questo è per i radianti. Andiamo avanti e consideriamo invece i gradi sessagesimali e decimali. Vediamo com'è possibile convertire da decimali a sessagesimali. Allora, i gradi possono essere espressi in decimali o sessagesimali. A volte è necessario convertirli dall'uno all'altro per risolvere un esercizio. Infatti, magari gli esercizi ci danno dati in sessagesimali e vogliono i risultati in decimali o viceversa. Vediamo. Abbiamo detto che π è uguale a 180 gradi, equivale a 3,14 radianti. Allora, un radiante è 57,32 gradi. Vediamo come convertire questo grado in decimali in sessagesimali. Allora, 57 gradi lo lascio. Il decimale 0,32 lo moltiplico per 60 e mi viene quindi 57 gradi e 19,2 primi. Devo convertire in sessagesimali anche i decimali dei primi. E quindi ancora continuo. Faccio 57 gradi e 19 primi già convertiti e 0,2 che sono i decimali dei primi per 60. Ottengo, alla fine, il grado completo in sessagesimali. E quindi un angolo decimale di 57,32 gradi mi dà un angolo sessagesimale di 57 gradi, 19 primi e 12 secondi. Ora facciamo il percorso inverso, in cui parto dall'angolo sessagesimale, sempre lo stesso, 57 gradi, 19 primi e 12 secondi, e voglio tornare all'angolo decimale. Applico questa formula. Devo sommare a 57 i primi fratto 60 e i secondi fratto 3,600. Applico la formula, mi viene 57 più 19 sessantesimi, fa 0,31 67, 12 fratto 3600, mi fa 0,00 33, e alla fine riottengo l'angolo decimale come prima, ovvero 57,32 gradi. Quindi sono tornato al punto di partenza. Visto che questi passaggi sono molto importanti per poter risolvere i problemi di questo modulo, adesso facciamo qualche esercitazione. Convertire i seguenti angoli decimali in radianti e viceversa. Quindi qui abbiamo un angolo sessagesimale di 56 gradi, 30 primi e 30 secondi. Applico la formula appena vista, in cui somma a 56 gradi i primi fratto 60 e i secondi fratto 3600. Ottengo che questo angolo sessagesimale di 56 gradi, 30 primi e 30 secondi, corrisponde a un angolo decimale di 56,51 gradi. Ora posso da questo ricavare addirittura il radiante, utilizzando questa formula. L'angolo in gradi decimali sta all'angolo in gradi radianti come 180 stappi greco. Visto che in questo caso la mia incognita sono gli angoli radianti, quindi è interna, per risolverlo faccio gli esterni fratto gli interni. E quindi faccio 56,51 gradi decimali per 3,14, tutto quanto fratto 180 gradi. Ottengo praticamente che questo angolo corrisponde a 0,99 radianti, quindi ho convertito questo angolo anche in radianti. Facciamo adesso un altro esercizio e passiamo da radianti in decimali. Quindi immaginiamo di avere 1,25 radianti e voglio convertirli in gradi decimali e poi sessagesimali. Cominciamo col dire che, come ho visto prima, un radiante corrisponde a 57,32 gradi decimali. Possiamo utilizzare questa formula per poter convertire 1,25 radianti in gradi decimali. Basta moltiplicarlo per quanti decimali sono un radiante e ottengo che 1,25 radianti corrispondono a 71,656 gradi decimali. Andiamo avanti. Da qui poi posso ricavare anche i sessagesimali utilizzando la formula di prima, in cui vado a moltiplicare questo componente decimale fratto 60 e poi la sua componente decimale fratto ancora 60, ottengo i secondi, ottengo che 71,656 gradi corrispondono a 1,25 radianti e anche a 71 gradi 39 primi e 21 secondi in gradazione sessagesimale. Quindi abbiamo utilizzato queste formule per poter convertire un angolo in radianti in tutti quanti le altre versioni. Questi esercizi, come detto, sono molto importanti perché in questo modulo utilizzeremo la velocità angolare e l'accessione angolare che spesso espresse i radianti a secondo quadrato e vedremo che spesso magari un testo ci dà i dati di un angolo in decimali o sessagesimali e prima di applicarli nella formula dobbiamo convertirli in radianti. Lo vedremo a breve. Cominciamo adesso il corso per il proprio e partiamo dal moto circolare uniforme. Il moto circolare uniforme è caratterizzato da un moto che compie archi uguali in tempi uguali. Il vettore velocità varia direzione in ogni punto del suo moto. Vedremo che in questo caso abbiamo un'accelerazione e l'accelerazione viene utilizzata non per cambiare la velocità come nel moto rettilineo ma per cambiare la direzione e velocità che è diverso. Allora F, ovvero la frequenza, equivale a 1 fratto periodo. La frequenza è quanti giri compie al secondo il moto mentre il periodo è quanti secondi ci mette a fare un giro completo. Lo vedremo in dettaglio poi negli esercizi. Possiamo vedere che il periodo è l'inverso della frequenza quindi da questa formula posso ottenere questa, ovvero T periodo che sarebbe quanti secondi ci mette a fare un'accelerazione completa equivale a 1 fratto frequenza. La frequenza si misura in Hertz ovvero 1 fratto secondi. Abbiamo visto che il periodo si misura in secondi e quindi 1 fratto secondi mi dà l'Hertz che è l'unità di misura della frequenza. Quindi ricapitolando, il periodo è la durata sempre in secondi del ciclo completo quindi l'oscillazione completa, di un giro completo mentre la frequenza è il numero di giri che il moto riesce a fare al secondo. Andiamo avanti e passiamo alla velocità del moto circolare uniforme. Allora vi ricordo che quando abbiamo fatto la lezione sui moti rettilinei la velocità equivale a spazio fratto tempo. Nel caso del moto circolare, al posto dello spazio vengono messi gli angoli quindi ω, che è la lettera greca per definire la velocità angolare equivale a angoli fratto tempo. Visto che la circonferenza equivale a 2πr quindi questa distanza lineare la posso calcolare facendo 2 volte π per il raggio allora la velocità lineare sulla circonferenza equivale a 2πr fratto T quindi distanza lineare della circonferenza fratto il tempo mentre ω, riccio angolare, equivale a 2πr ovvero la circonferenza completa fratto periodo e come abbiamo visto prima, il periodo è il tempo che impiega a fare un ciclo completo. Andiamo avanti. Allora, vediamo la velocità del moto uniforme. Come vedete, se io proietto lungo l'asse x e y con centro nell'origine del cerchio un punto in moto sulla circonferenza avrò che sto descrivendo un moto sinusoide qui vediamo che l'ampiezza equivale al raggio quindi ovviamente l'altezza massima che può raggiungere e poi abbiamo la distanza lineare in π quindi 0πr, 90 gradi, πr, 180 gradi 3 mezzi πr sono 270 gradi e poi 2π360 gradi quindi posso descrivere in modo circolare anche sui grafici facendo vedere questo moto onduratorio. Abbiamo visto prima velocità lineare del punto sulla circonferenza equivale a 2πr fratto t mentre velocità angolare del punto che gira intorno alla circonferenza sempre lo stesso abbiamo ω equivale a 2π fratto t Cosa comporta questo? Questa è la velocità periferica ovvero se il punto si allontana dal centro ma continua a girare cambierà questa velocità perché dipende dal raggio cioè dalla distanza dal centro mentre indipendentemente da quanto si può allargare o restringere l'oggetto la velocità angolare non cambia questo non dipende dal raggio ed è uguale ad ogni distanza dal punto centrale di rotazione andiamo ancora avanti quindi ho visto che velocità equivale a 2πr per frequenza perché 1 su t è frequenza e ω è anche equivale a 2πf quindi 1 su t cioè 1 su periodo perché questo è in realtà anche se t piccolo sarebbe il periodo perché è il tempo per fare un giro completo corrisponde a f perché abbiamo visto nella strada precedente che 1 su periodo è frequenza quindi praticamente posso scrivere 2πr per f per frequenza per trovare la velocità lineare e 2π per f invece per trovare la velocità angolare come vedete tra i due cambia che in uno una dipende dal raggio l'altra no quindi possiamo anche dire che velocità equivale a ω per r ovvero velocità angolare per r perché abbiamo visto prima che 2π per f cioè questo lo posso sostituire qua dentro e ottengo che la velocità lineare semplicemente equivale a velocità angolare per il raggio vado ancora avanti quindi velocità angolare equivale a v fratto r quindi ricapitolando la velocità lineare è 2πr per f però velocità angolare è 2π per f cosa significa questo? che posso sostituire questo valore qua dentro e ottengo che la velocità lineare equivale a v uguale ad ω per r ora posso fare la formula inversa e ottenere che ω equivale sia a 2π fratto t che a v fratto r quindi ho due formule per ottenere ω questo ci servirà negli esercizi andiamo ancora avanti qui abbiamo una circonferenza qui abbiamo un punto definito da due vettori abbiamo un vettore velocità che è tangenziale alla circonferenza e un vettore accelerazione centripeta che invece è perpendicolare alla circonferenza in ogni suo punto perché c'è l'accelerazione? perché vedremo è importante per mantenere in modo circolare uniforme quindi visto che la velocità è costante possiamo applicare le formule della velocità costante anche se c'è un'accelerazione ma questa accelerazione non va a variare la velocità adesso vediamo a cosa serve quindi α, ovvero l'angolo percorso equivale ad α0 più ω per t se α uguale a 0 la formula rimane semplicemente α angolo percorso uguale velocità angolare ω per il tempo trascorso perché abbiamo un'accelerazione se la velocità rimane costante? perché la funzione che ha il vettore accelerazione è cambiare la direzione della velocità in ogni suo punto nel modo lineare uniforme quando c'è l'accelerazione la velocità varia nel tempo ma la direzione rimane costante perché è un modo rettilineo in questo caso l'accelerazione serve a modificare la direzione e quindi non cambia la velocità che è sempre la stessa in ogni suo punto ma cambia invece la direzione del vettore velocità in ogni suo punto e per fare ciò serve un'accelerazione quindi in modo circolare uniforme ha un'accelerazione ma questa accelerazione non si traduce in una variazione della velocità di rotazione ma in una variazione della direzione del vettore velocità quindi accelerazione centripeta quindi questo vettore accelerazione equivale a velocità al quadrato fratto r e visto che v equivale ad omega per r l'abbiamo visto prima possiamo scrivere che l'accelerazione centripeta equivale a omega al quadrato per r al quadrato fratto r quindi questo r e questo r al quadrato si semplificano e l'accelerazione centripeta la posso scrivere come omega al quadrato per r quindi vedete come è possibile ottenere l'accelerazione centripeta da questa formula omega al quadrato per r vado avanti e facciamo qualche esercitazione immaginiamo di calcolare l'accelerazione centripeta in un modo circolare uniforme la cui legge oraria è questa qua quindi dobbiamo applicare questa legge del movimento a, accelerazione, equivale a 3 più 5t c, t, sapere il tempo dobbiamo fare questo sapendo che il punto materiale mobile percorre 80 cm di arco in 2 secondi abbiamo la formula vista prima ovviamente tradotta con questa legge oraria quindi a con 0 è 3 omega sarebbe velocità angolare e 5 e t è la nostra incognita e vado a calcolarmi in modo della velocità periferica v, visto prima spazio fratto tempo quindi abbiamo detto 80 cm che è lo spazio percorso fratto il tempo in 2 secondi che cosa significa? che la velocità tangenziale va a 40 cm al secondo lo trasformo in metri per facilità e vado a identificare gli altri dati velocità angolare omega e 5 di tanti al secondo lo ricavo dalla legge oraria seguendo questa formula questo 5 è omega quindi omega 5 di tanti al secondo abbiamo visto prima che la velocità è omega per r ce l'abbiamo r r è la nostra incognita quindi posso ricavarmi r che equivale a velocità fratto omega è la formula inversa di questa quindi 0,4 fratto 5 ottengo praticamente un raggio di 8 cm ovvero 0,08 metri calcoliamo infine l'accelerazione centripeda applichiamo la formula vista prima a c equivale ad omega al quadrato per r omega al quadrato è 25 5,525 per r l'abbiamo appena trovato e quindi ottengo che l'accelerazione centripeda è 2 metri al secondo quadrato utilizzo metri fratto secondo al quadrato perché questa è l'unità di misura dell'accelerazione metri fratto secondo al quadrato allora cominciamo a vedere il moto armonico semplice nel moto armonico la proiezione di un punto in modo circolare uniforme sull'asse x e y descrive un moto armonico con accelerazione e decelerazione infatti se voi vedete qua questo punto segue questa circonferenza ma se io seguo solamente il punto sulla retta avrò delle accelerazioni dei rallentamenti e delle inversioni di rotta quindi in realtà se io osservo il moto solamente sulla retta cioè la sua proiezione vedrò un comportamento molto più complicato di quello che in realtà poi è nel moto circolare vedrò delle accelerazioni e dei rallentamenti possiamo vedere meglio questo discorso di accelerazione e decelerazione in questo punto quindi abbiamo sempre la circonferenza con la proiezione del moto circolare su un piano rettilineo vediamo che in questo punto accelera e decelera lungo tutto il percorso come un'altalena posso identificare le varie posizioni B, 0 e O qui proiettate sullo stesso punto B, 0 ed O e vediamo come si comporta il vettore velocità e il vettore accelerazione in ogni singolo punto oppure nei punti chiave nel punto A quindi qui sul vertice la velocità è nulla e l'accelerazione è massima la velocità decresce dal punto A al punto 0 fino a diventare massima nel punto O e poi decresce di nuovo fino a tornare nulla nel punto B e ricomincia da capo l'accelerazione invece al contrario sarà nulla nel punto centrale invece sarà massima nei due punti B ed A quindi vedete come questa tabella descrive il comportamento delle velocità e accelerazione nei diversi punti del suo proiezione mentre lungo la circonferenza velocità e accelerazione rinomano costanti la loro proiezione invece varia e possiamo calcolare i valori velocità e accelerazione in ogni singolo punto secondo queste formule quindi immaginiamo la velocità di un punto A in qualsiasi punto possibile su questa retta equivale a velocità tangenziale della circonferenza fratto il raggio della circonferenza che moltiplica questa operazione r al quadrato è il raggio al quadrato meno x al quadrato che cos'è questo x al quadrato? è la coordinata x di questa retta se considero 0 il punto d'origine questo sarà la componente x positiva e questa la componente x negativa quindi ovviamente questa x è la coordinata su questa asse qua sulla proiezione di fatto vado avanti se vi ricordate l'accelerazione equivale a omega al quadrato per x x è la porzione di tratto proiettato che stiamo considerando quindi posso calcolarmi l'accelerazione in qualsiasi punto se voglio calcolare nel punto A nel punto B semplicemente metto R al posto di x perché la distanza che c'è tra il punto A e il punto B di fatto è il raggio mentre qualsiasi punto intermedio ovviamente avrà un'accelerazione intermedia fino ad essere nulla quando metto 0 qui perché ho considerato questo punto 0 come l'origine della x quindi se mi sono al punto 0 l'accelerazione è nulla perché faccio omega al quadrato per 0 e viene 0 allora invece vi ricordate che omega equivale a di pi grego fratto t come ho visto prima allora posso andare a sostituire questo vedere qua quindi al posto di omega ci metto 2 pi grego al quadrato fratto t al quadrato sempre per x quindi semplicemente ho sostituito questa formula qua dentro e ho ottenuto questa e quindi ora da qui possiamo ricavarci addirittura il periodo quindi il tempo di oscillazione quindi scriviamo questa formula inversa questo al quadrato quindi 4 pi grego al quadrato fratto a l'accelerazione tutto quanto per x e quindi t equivale alla lice quadrata di questa cosa qua 2 pi grego per lice quadrata di x fratto a l'accelerazione quindi vedete come si può giocare con le formule inversa per poi trovare questi valori allora ho preparato un esercizio in modo da poter capire il concetto del modo armonico semplice questa è la formula importante da imparare per trovare il periodo facciamo un'esercitazione così vediamo bene quello che ho spiegato poco fa quindi immaginiamo un moto armonico l'ampiezza di un moto armonico è di 2 metri che vuol dire qui abbiamo una circonferenza seguita da questo moto armonico la sua proiezione sull'asse x e y non è vita a questa sinusoidale come vedete l'ampiezza della sinusoidale equivale al raggio della circonferenza che sono 2 metri la sua accelerazione massima quindi nel punto più estremo quindi nel punto 2 metri e meno 2 metri equivale a 0,5 metri al secondo al quadrato dobbiamo calcolare il periodo e inoltre dobbiamo calcolare il modulo dell'accelerazione e della velocità nel punto x pari a 1 quindi a questa altezza qua andiamo a vedere come si fa quindi scriviamoci i dati x quindi ampiezza massima 2 metri xp ovvero il punto in cui dobbiamo calcolare i valori che ci ho chiesto accelerazione e velocità uguale a 1 metro e poi l'accelerazione 0,5 metri al secondo quadrato vi ricordo che nel moto circolo uniforme l'accelerazione ha lo scopo di far cambiare la direzione del vettore velocità sulla circonferenza ma l'intensità della velocità della circonferenza è sempre la stessa andiamo avanti quindi t periodo seguo la formula vista poco fa 2pi greco che moltiplica radice quadrata di x fratto a vado a trovare il periodo equivale a 2pi greco che moltiplica 2 fratto 0,5 ottengo 4pi greco quindi il mio periodo è di 4pi greco vado avanti e quindi vediamo che omega se ricordate è 2pi greco fratto t ma se t è 4pi greco allora omega equivale a 2pi greco fratto 4pi greco quindi a 0,5 perché questo si semplifica 2 quarti fa un mezzo quindi 0,5 radianti al secondo quindi omega è di 0,5 radianti al secondo cosa mi serve questo? la applico nella formula meno omega al quadrato fratto x equivale a meno 0,5 al quadrato per 1 equivale quindi a 0,25 perché 0,5 al quadrato fa 0,25 al mè al secondo questa qui è la mia accelerazione nel punto 1 ora ci manca invece di trovare la velocità nel punto 1 quindi applicando la formula vista prima v del punto 1 quindi la velocità è il punto che stiamo cercando equivale ad omega che moltiplica la radice quadrata di x massima al quadrato ovvero oscillazione massima al quadrato che è 2 meno il punto in cui la stiamo cercando che è nel punto 1 x al quadrato quindi che succede? vado a sostituire i dati quindi omega è 0,5 che moltiplica 2 al quadrato che era il raggio del cerchio e anche la piezza massima meno 1 al quadrato tutto quanto mi viene 0,866 mè al secondo che cosa significa? che nel punto 1 quindi qua la velocità di questo punto della sua proiezione è di 0,866 mè al secondo quindi è la via di mezzo tra la velocità nulla nel punto 2 e la velocità massima invece qua nel punto 0 se volessi trovare la velocità nel punto 0 semplicemente metto 0 qua dentro la radice quadrata di 4 fa 2 2 per 0,5 fa 1 quindi nel punto 0 la velocità massima è 1 m al secondo quindi vedete come tutto quanto cambia allora adesso vediamo l'ultimo argomento di questa lezione che è il moto rotatorio un corpo si definisce il moto rotatorio quando ognuno dei suoi punti descrive una traiettoria circolare attorno a un centro al centro della quale esiste un punto o un asse chiamato di rotazione quindi nel caso della Terra ha il suo asse di rotazione la Terra è un corpo rigido in un corpo rigido due punti A questo qua e B questo qua che si trovano a distanze diverse dall'asse di rotazione hanno un'uguale velocità angolare mentre una diversa velocità lineare per esempio all'equatore dove la Terra è larga 40.000 km e un punto sull'equatore deve percorrere praticamente 40.000 km al giorno nello stesso tempo per cui un punto che sta alla latitudine dell'Italia deve percorrere invece 20.000 km perché alla stessa latitudine dell'Italia praticamente la Terra è larga solo 20.000 km perché la Terra si restringe man mano che vado verso i poli quindi di conseguenza il punto velocità sulla superficie sarà diverso in base alla latitudine mentre per quanto riguarda la velocità angolare a qualsiasi latitudine fanno sempre 360 gradi in 24 ore quindi ovviamente dobbiamo distinguere in velocità angolare e velocità lineare nel corpo rigido quella lineare cambia in massa la distanza dal punto di rotazione mentre quella angolare è indipendente dalla distanza di tale punto ricordiamoci che il raggio nel punto A è maggiore del raggio nel punto B quindi se vado a calcolarmi la velocità per cui devo mettere la velocità angolare che moltiplica i raggi trovo che la velocità del punto A è maggiore che la velocità del punto B quindi maggiore è la distanza dal punto di rotazione quindi maggiore è il raggio maggiore è la velocità tangenziale che il punto subisce all'equatore la velocità lineare della rotazione terrestre è maggiore alle latitudini più basse ancora posso trovare anche l'accelerazione tangenziale equivale a delta V fratto delta T e sigma che è l'accelerazione angolare delta omega fratto delta T quindi così come esiste la velocità tangenziale e la velocità angolare esiste anche l'accelerazione tangenziale e l'accelerazione angolare anche qui in questo caso l'accelerazione tangenziale cambia in base alla distanza dal punto di rotazione mentre l'accelerazione angolare non cambia in base alla distanza dall'aste di rotazione possiamo ancora dire questa cosa ovvero che l'accelerazione angolare si misura il radiante al secondo quadrato e se l'accelerazione angolare è costante in modo rotatorio uniformemente accelerato vale anche la seguente relazione ovvero AT l'accelerazione tangenziale equivale a sigma che è l'accelerazione angolare per il raggio e questa va imparata quindi l'accelerazione angolare non cambia con il raggio invece l'accelerazione tangenziale dipende dal raggio cioè dalla distanza dal punto di rotazione dal punto o assi di rotazione vediamo ancora qualche altra formula da imparare ad esempio omega veloce angolare equivale a sigma accelerazione angolare per il tempo mentre A l'accelerazione equivale a un mezzo sigma per T al quadrato come vedete sono molto analoghe alle formule del moto rettilineo uniformemente accelerato vado avanti facciamo questo piccolo esercizio sapendo che l'accelerazione angolare di un moto rotatorio è costante e uguale a sigma 18 radiante al secondo quadrato calcolare la variazione che subisce la velocità angolare in 0,3 secondi ovviamente se è un'accelerazione angolare c'è una variazione nella velocità angolare che pare nel tempo quindi la velocità angolare varia con sigma per T abbiamo detto che sigma è 18 radiante al secondo quadrato per il tempo 0,3 secondi la velocità angolare varia in questi 0,3 secondi di 5,4 radiente al secondo ovvero in 0,3 secondi con questa accelerazione angolare la velocità angolare aumenta di 5,4 radiente al secondo e quindi vediamo che secondo questo esercizio con questa accelerazione angolare sigma di 18 radiente al secondo in 0,3 secondi la velocità angolare varia quindi aumenta di 5,4 radiente al secondo nella prossima lezione parlerò della forza e del moto e quindi mentre nella lezione precedente abbiamo visto le forze applicate nella statica questa volta parleremo invece di forze e dinamica potete trovare questa ed altre lezioni sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook prof Antonio Lugliacono grazie grazie a tutti grazie a tutti